Ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Manu ragazzoli Oggi siamo qui ragazzi in questo nuovissimo video insieme al mio amico Manu Bella raga Oggi andiamo a completare la sfida Distruggi strutture con bobole di propano Ragazzi questa sfida è semplicissima Da completare perchè se voi vi dirigete Al pozzo ragazzi Basta che costruite Fate 4 mura messe in croce Ragazzi è molto difficile però Perchè c'è molta gente Quindi noi siamo andati In un'altra modalità ragazzoli Allora ragazzi per svolgere questa sfida Semplicissima andate in una rissa squadre Costruite 4 mura messe in croce Andate a prendere le vostre Come posso dire bombole ragazzi Appunto raccogli Le prendete Allora intanto dovete essere in un punto alto Perchè le dovete lanciare Quindi andate qua Ecco accesa via 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 Ecco ragazzi Mano a mano che voi fate esplodere Queste diciamo bombolette Dove vi conterà le diciamo Le strutture distrutte ragazzi Il conto totale delle costruzioni distrutte Deve essere di 10 Noi ad esempio Se continuate a fare questa cosa qua Che stiamo facendo noi Finite subito da sfida Vediamo quanto le distrugge Voi potete vedere ragazzi Distrugge un po' di costruzioni E poco ragazzi Questa qua è la sfida Semplice e veloce Il problema che c'è tantissima gente Appena fate questa missione Perchè tutti la fanno E niente ragazzi Vi piaciuto questo video Vi ricordo di lasciare un bel like Iscrizione al canale ragazzi Seguire me e il mio amico Manu All'interno di Instagram Vi lasciamo tutti i link in descrizione Boys Supportami all'interno Nel negozio oggetti di Fortnite Mettete un like E certo un like boys E poi codice catore social Trattino ma Trattino più senti Nel negozio oggetti di Fortnite Bella Grazie a tutti